Individuati dalla Guardia di Finanza, 260 indebiti, percettori di buone spese e altri benefici economici, quali sostegno alle locazioni e buono babysitting residenti a Messina e in tutta la provincia. Gli accertamenti e le fiamme gialle che hanno preso in esame i dati autocertificati nelle richieste di erogazione dei contributi economici presentate e che allo Stato hanno riguardato circa 3.000 istanze da inizio pandemia, hanno evidenziato che diversi nuclei familiari percepivano forme di sostegno economico, tra loro incompatibili o avessero indicato dati falsi o omessi informazioni dovute. In sostanza, numerose autocertificazioni risultavano prive dei requisiti previsti nei relativi avvisi pubblici. Da qui l'emersione dei 260 indebiti percettori, di cui 40 segnalati alle procure di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto e Patti, per indebita percezione di erogazione da nello Stato e falsi in atto pubblico. Gli altri 220 sono stati segnalati alle competenti autorità per l'erogazione delle previste sanzioni amministrative. Avviata anche l'azione per il recupero delle somme già erogate pari a oltre 37.000 euro, su un totale di contributi controllati pari a circa 150.000 euro. E' stata inoltre inviata apposita segnalazione agli interrogatori per la decadenza dell'ammissione ai benefici richiesti.